Dopo la lettera inviata ai parlamentari del territorio, i benzinai aderenti alla Fab Confesercenti Toscana Nord mettono in campo un'altra protesta contro il caro carburante. Gli impianti con self-service rimarranno infatti al buio durante le ore notturne a partire da lunedì 14 marzo. Sì, noi siamo pronti per questa iniziativa, niente di eclatante, niente di sconvolgente, ma insomma ci stiamo muovendo da stasera, vediamo di spengere questi self-service, vediamo che effetto fa. Se è mosso qualcosa al governo vediamo un attimo come va a finire, anche perché siamo proprio alla frutta, siamo proprio in fondo adesso. Una protesta resa sì necessaria per portare all'attenzione quanto già espresso durante gli scorsi giorni dai rappresentanti della categoria, e cioè alle gravi ripercussioni, che gli aumenti stanno portando ai gestori dei distributori, i cui guadagni sono fissati a 3 centesima e mezza al litro, indipendentemente dal prezzo del carburante, a fronte di un netto calo di clienti.